Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi mostrerò come ricreare questa acconciatura che parte da una treccia olandese. Se non sapete come realizzare la treccia olandese, è praticamente l'inverso di quella francese. Innanzitutto prendete una ciocca più vicino possibile alla fronte, dividetela in tre, così come faccio nel video, e poi cominciate ad intrecciare da uno dei due lati esterni. Io ho cominciato dal sinistro e praticamente ho preso la ciocca più esterna a sinistra, l'ho portata sotto quella centrale e poi di nuovo quella di destra ancora sotto quella centrale. A questo punto nel ripetere gli stessi passaggi ho mano a mano aggiunto delle ciocche provenienti dalle parti laterali della mia testa. Una volta completata la treccia olandese, per terminare dovete semplicemente procedere con una treccia normale, ovviamente alla fine legarla con un laccetto elastico e utilizzato sempre uno di quelli trasparenti. Arrivati a questo punto, il risultato dovrebbe essere per tutti più o meno questo. E adesso arriva la parte più divertente, se così si può dire. Prendete la vostra treccia e cercate di arrotolarla, così come si vede nel video, da una parte della vostra testa. E poi fermatela con dei ferretti. Infine, sarà questo il risultato finale. Spero che il video vi piaccia e se così non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale e noi ovviamente ci vediamo alla prossima. Ciao ragazze! Ciao! Ciao!